Ennesima figura di M, ennesima! Mi è sembrato di rivedere un Milan-Manchester, o anzi un Manchester-Milan, 1-1, risultato pessimo, quindi anche il risultato fa schifo, ma il gioco, cioè qui ci manca uno schema d'attacco, ok le palle alte, quelle tirate dalla difesa, ma come si attacca? Cioè questi non sanno attaccare, la passano a Ibra, anche quando è marcato, ma cosa fate? Ma cosa fate? Gol regalato grazie a Teo, che sta veramente prosciugato, ma poi anche in KPS oggi, cioè sembrava una squadra formata così, poco prima dell'inizio della partita, fisicamente siamo decisamente meglio della Sampdoria, siamo d'accordo su questo? Che siamo decisamente meglio? Perché penso che si sia visto, però non corrivano, cioè da Ibra dovete prendere la sua esperienza, il controllo palla, il rigore c'era, il rigore c'era, non parlatemi di questo, il rigore su Ibra c'era, ma ralasciando questo perché comunque contro la Samp è forte, ha battuto anche l'Inter, però come hai giocato? Cioè non bisogna guardare contro chi giochiamo, perché avevamo giocato anche contro il Manchester, abbiamo fatto schifo, che gli ho detto altro che uscì da testa alta? Dei struzzi, struzzi, dei struzzi perché avevamo fatto schifo, non c'era uno schema d'attacco, non si può giocare senza schema d'attacco, cioè cos'è? O provi a farti fare fallo e tiri il rigore, oppure puoi entrare in porta con la palla? Figuraccia dimezzata grazie a Pogue, fa un gol, il bimbo norvegese, segna, segna e dimostra quanto vale e dovrebbe entrare prima anche. Forse non so se Brian Diaz è infortunato, però ci serviva qualcuno, cioè la mentalità era sbagliata, sembrava che stavano là tutti rilassati, e no qui bisogna andare al 100%, rilassato ci vai se vuoi andare in Europa League, non solo andare in Champions, per andare in Champions è un'altra storia, cioè questa non è una squadra pronta per andare in Champions, non c'è continuità e non puoi giocare bene solo dopo aver segnato, tra l'altro il palo di sì alla fine era frutto di una buona difesa da parte loro, che hanno fatto benissimo, cioè per loro, loro hanno giocato male e comunque hanno pareggiato, loro sono orgogliosi, noi no. Ben Nasser si sta ambientando, ha giocato, ha fatto diversi errori, però soprattutto che sì, ma che sì oggi era un giocatore normale, non era più il caro armato che recuperava tutti i palloni, Ciaranolu non corre, Ciaranolu non corre, guarda la palla e dici non ci arrivo, ma non sei Ibra, cioè la forza del Milan nel fatto che possiamo correre fisicamente siamo messi meglio, è incredibile, no, è un figuraccio, proprio uno schifo, lo schifo dello tifo. Ma io lo sapevo, loro facevano degli schemi, andavano avanti, la passavano, poi non solo, cross buttate al centro. Vabbè, io chiudo qui, mi raccomando lasciate un piace, iscrivetevi al canale, bene.